Ciao a tutti! Sabato 9 novembre sarò a Mendrisio alla Pop Music School di Paolo Meneguzzi per un'altra Masterclass Gotthard Drum School. Parleremo di Timing e Groove. Ho scelto questo titolo non perché il timing sia qualcosa di sconnesso dal groove, anzi sta alla base di tutto quello che facciamo alla batteria, ma perché volevo sottolineare il fatto che avere un buon timing non è sufficiente per avere un buon groove. Ci sono altre abilità che noi batteristi dobbiamo avere sotto controllo. Quindi vi farò vedere alcuni esercizi molto semplici ma efficaci che mi stanno aiutando in questo momento a migliorare il mio groove. Siccome ho visto dei buoni risultati sia dal vivo che in studio, mi piacerebbe condividerli con voi. Mi raccomando portate il pad e le bacchette perché suoneremo insieme, alcuni di voi magari andranno anche alla batteria per un paio di esercizi. E quindi vi aspetto numerosi, spero, sabato 9 novembre alle ore 16 a Mendriso alla Pop Music School di Paolo Meneguzzi. Ciao!